Da domani chi ha più di 12 anni dovrà esibire il Green Pass per mangiare al chiuso in un locale o fare sport, assistere ad eventi sempre al chiuso. Gli esercenti sono pronti, cartelli informativi ci sono sia in italiano che in inglese ma a loro l'iniziativa proprio non piace. Non gli piace innanzitutto il ruolo di controllore. Abbiamo il dovere di essere carini e ospitali e gentili. Fare altre cose non è il nostro mestiere. Altra preoccupazione riguarda gli stranieri. Tantissime provenienze non hanno questo strumento e non è nemmeno riconosciuto dai russi, dagli americani e quindi andare a dire venite in Italia ma non potete stare negli interni dei ristoranti, dei bar perché non hai Green Pass non penso che diamo una bella immagine del nostro paese. La richiesta era stata quella di partire almeno a fine stagione. Intanto per consentire a tutti di potersi vaccinare perché oggi si discrimina una fascia per noi importante quelli dei giovani, giovanissimi che non hanno scelto di non farlo ma non è toccato ancora a loro e ecco perché avevamo chiesto di adottare magari questo sistema a fine settembre perché in questo modo si discrimino imprese come le nostre che quali bisogna chiedere il Green Pass qui e non in un albergo e non in una spiaggia.